La situazione inizia a scaldarsi. Capitolo 3, il mondo ninja all'ombra di zero. Let's go, un mattino tranquillo. La situazione inizia a scaldarsi. 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 Eh già. Vabbè ci sta raga, è giusto. Vuole rientrare nel gioco raga. La situazione inizia a scaldarsi. Eccolo qua, ci lo sapevo io. Partirà qualche altro video? O il gioco non funziona più? No, invece funziona. Ma c'è un altro Naruto? Non ho deciso a scaldarsi. Ah, cosa hai chaciuto? Ma inizia a scaldarsi. E' da una situazione inizia a scaldarsi. E' la situazione inizia a scaldarsi. E' stato un po' di sisi. Tutti la situazione inizia a scaldarsi. E' un nuovo evento? E' un entusiasco di ricercimento, c'è! guardò Ashirama raga che personaggione spettacolare 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 pochi giorni spettacolare 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 spettacolare